Musica Musica Allora proseguiamo Diamo una mano a Dom giustamente A ritrovare sua moglie Ma prima Mowler ok Che è quello là con lo scudo Si Però I piedi non sono coperti Porta Ah ci ha pensato Dom? Ah Pensa te Qua c'era un campo da lavoro Però Ok Grazie sono pieno Qua c'è qualcosa No lo scudo non lo prendo Sto bene anche senza Troika Troika è quello lì o è solo un riflettore? Ah no è lì la Troika Ok Quello mi sa che è solo un riflettore Aspetta Ok Preso Vai Scusa si può distruggere? Ok grazie Mi dava fastidio Aspetta Quello sta sparando Si è colpito da solo Spero di sì Tutti La Atticare Cor공 Guarda 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 위 Perfetto, io ho la testa Ce n'è uno là in fondo Aspè Ah, è un cecchino Preso Ok Oh va, cava E prendiamo il lancer, dai Anche se quello appunto non è male Ma sì, per cambiare un po' Anche perché poi infatti Come nel primo gioco, mano a mano Forse l'ho già detto, però Mano a mano si va avanti E più troviamo Terminale dell'ocusto No Pensavo fosse Ok Troviamo nemici con l'ancer Quindi Questa roba Jack, potresti trovare un gioco visuale su Maria? Tuttavia Tuttavia Oh, l'abbiamo trovata Eh, tipo Tipo il blocco No Blocco A, blocco B Magari O forse la capsula Cerca nei computer il simbolo dell'ocuste corrispondente Dove sei? No Mi Cosa L'ho 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 Non lo so, ma dobbiamo continuare a andare, se Maria è in una di queste cose, dobbiamo trovare lì velocemente Vediamo questo terminal, si può dire se è in qui E andiamo avanti Però la gente la lasciamo dentro, lo stesso, anche se non è lei Ma non ci hanno visti Non ci hanno visti Una pattuglia, una pattuglia abbastanza deboluccia Sono tre persone in croce Anzi quattro Vabbè una guardia... Oddio, com'è che si chiamavano Mi ricordo più già più Oh no, non volevo Ok E poi perché? Vabbè Sono spariti incredibilmente Vediamo No, simbolo sbagliato E poi incredibile Cioè, premendo solo un pulsante C'è solo questa funzione qua Sto terminale non Non fa altro Ah no, ecco lì, sono là Ok Ok Sì sì, ma li vedi? Andiamo avanti troppo, se non ci sentono No No Eh, andiamo avanti Sì, ma... Sono sempre loro lì davanti, eh Sì sì Sarà quello giusto? No Ah, madonna Eh, vabbè, se vai avanti, do... Cioè, voglio dire... Eh... Ah, madonna, mi hanno preso Forse con l'arco, eh Non me ne sono accorto Vabbè Va bene Vabbè, devo... Rifare da... in fondo, forse, dall'inizio Oh, Dom, mi raccomando, eh Cioè, loro lo fa... lo fa apposta Cioè... Eh, vabbè Allora, aspetta, attenzione all'arco... all'arco torque, eh, infatti Infatti Ok Ok Il marauder è andato Ok Ok Anche la guardia scelta Ok 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 Eh... Però non potevamo farlo subito, no? Potremmo farci scoprire un po' più avanti Vabbè Che senso ha? Vediamo, qua c'è un altro terminale E' questo E' questo Questo deve essere l'area Inizia a guardare Eh, li apriamo uno a una Ci trovarono Abbiamo compagno Eh... Jack, troviamo Maria Ci prenderemo E' questa è la barriera Oh, sì Porca vacca questo Aia Ah, cavolo Spero di non dover rifare tutto da capo, eh Eh... Però più che altro Aspettare lì Dom Che va avanti E... E poi alla fine si fa scoprire Ah, ecco Meno male, va Allora, aspetta Ok Ah no, ok Dobbiamo vederlo Ah no, ho un posto Allora, prima lui Lui Dove morire, lui Quando è troppo vicino Ok Poi gli altri Sono solo al dietro Ah, di là arrivano Ma che sei bloccato Si è buggato Che culo Dai, dobbiamo... Dobbiamo sfruttare Ok Aspetta Meno male si è buggato Boomer Boomer Oh, via, via, via Aspetta che questi non mi piacciono Sono troppo vicini Ok Ok Porca vacca Ho sentito conficcarsi Porca Ma... Ma... Se te l'hai trasportato qua Ok, mo' è morto Dov'è, dov'è? Meno mai non ci ha preso di mira Quello con l'arco Con l'arco Un ginello con l'arco In giro con l'arco Ma... Lo è successo Aspetta Ok Prima ha detto boomer ma... Vero Mi do un attimo Ok Sotto colpi Aspetta È vivo? Merda è ancora vivo Ah ti sei avvicinato bravo Pensavo che era ancora là Ok Oh Mamma mia L'hai trovata? Jack aprile Non posso crederlo Marcus Abbiamo finalmente trovato Eh però Sei lì dentro E non c'è nessuno che si lamenta Sai un qualche dubbio Lo farei venire Sembra stare bene Sembra stare bene però Ah la vedeva lui così Oh no 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 baby No 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 What do they do to you? Goddammit, è me, Dominic It's Dominic Marcus I don't know what to do I don't know what to do, man No It's okay I'm so sorry I'm so sorry, Maria I love you so much Eh, sì Forza Piuttosto che rimanere così E beh, ora almeno Si sa che fine ha fatto Piuttosto che non sapere Però, insomma Brutto, brutto I'm sorry about Maria But she's in a better place now You did what you had to do I found a way to sneak into Nexus But if you want to go in guns blazing I don't blame you I want to kill them all Ok Nido di vespe Allora, fatti strada all'interno del Nexus E non abbiamo Munizioni Tom Tom I hold up I'm surviving That's all I can do Beh Che come butta Direi Come stai No? In questo caso Come butta Cioè Non mi sembra Non mi sembra Le parole Non mi sembrano le parole giuste Poi Sto andando di qua ma Non so No, qua mi sa che torno indietro Eh Sì Però Non so se era stata giusta Andiamo di in fondo Ah sì No, qua Aspetta Qua è chiuso Ah no, apriamo così Giustamente I think We've found Our locust stronghold Nexus Now where do we find The Queen My bet's on that tower In the middle It's the closest thing We've seen to a palace So when should we Activate the beacon When we get in deeper The cavalry needs solid ground To land on We've got to make sure No lifts land And the emulsion Come on Let's head towards the palace Eh, in effetti Non c'è un terreno Cioè Anche se non vediamo in basso Forse c'è l'emulsion Eh Eh sì Eh sì Eh Ma subito ci hanno visti Così così C'è C'è Allora Io ho bisogno Di colpi Proiettili Eh È vero che ora Incontriamo tizi Con l'hancer Però Però Quella Ok Ok Se non ne incontriamo Meglio cambiare arma Posso mica avere arma scarica Ah Eccola qua Guarda Ok Meno male No Dov'è quello con l'arco Eccolo là Non si affaccia eh Lo si è spostato No è sempre là Aspetta va E' lì E' lì dietro Guardalo Attenzione Ecco È morto Massiva Cambiamo un attimo Come ho detto Porca Vabbè Quello è in ginocchio Cavolo Cos'è è un cecchino? E' uno con l'arco No Ho ripreso il lens Ma porca Vacca Allora Ok Ah no E' uno normale Ah si no Era un cecchino Ok E' uno in due Vabbè Ok Interruttore Dove Qua Ah qua c'è l'arco Qui forse Abbiamo aperto Una porta E arrivano i nemici Quelli con lanciafiamme Quelli con lanciafiamme Dove arriveranno? Da lì Ok Preso Aspetta Aspetta Che mossa Faccerà qui No Non arriva Lo sento Ma Qua sotto Perché ti si vede bene Eccolo Aia Ok L'ho preso Vai vai Qua qua Sono qua Ok Granate Sì Bravo Eh ma in questo Questo Gears 2 Comunque Hanno migliorato molto L'intelligenza Dei compagni Fanno Danno veramente Una mano Sì 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 Guarda là che ci sono Delle munizioni Ok Ah siamo pieni Ok Adesso La porta Era qua Ma devo scendere Di qua Forse Sono dei megafoni Quelli Ma sta parlando Con noi Forse Non lo so Eh qua C'è Esatto Esatto Quando ci sono Delle coperture In giro Non c'è uno scontro Vai vai Ok Ok Oh La sua specie è destinata a regolare Herra, continui a combattere i miei figli, la tua Queen è con te! Sì, definitivamente la Queen!